Ciao, benvenuti in uno spazio Mio Podcasting Mio Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile Questa è la stagione 3 In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Palio Contatto Ciao gente, il prossimo aggiornamento in gennaio 2020